Onorevole Rosanna Conte, Commissione Pesca Parlamento Europeo, oggi siamo nella sua caorle per la terza tappa degli Stati Generali della Pesca del Veneto. Oggi si farà un parallelo un po' tra FEAMP e FEAMP, quindi per scrivere delle regole, dei documenti che saranno poi fondamentali per dare una programmazione sia a livello nazionale ma anche a livello europeo. Sì, intanto parto subito con una bellissima notizia perché proprio ieri a Strasburgo abbiamo deliberato il residuo di fondi europei del FEAMP 2014-2020 che saranno poi destinati appunto per la compensazione del fermo pesca e per i costi aggiuntivi che hanno subito i pescatori dal 24 febbraio, quindi a causa della guerra in Ucraina. Quindi questo è già un passo avanti e dimostra come l'Europa stia prendendo un po' la posizione e stia comprendendo lentamente, però intanto è importante che prenda atto delle difficoltà dei nostri pescatori e dei nostri acquacoltori. FEAMP-FEAMP, come vedete sono due termini diversi perché il FEAMP sarà dedicato anche dal spazio maggiore, soprattutto dal punto di vista strutturale, anche all'acquacultura che per noi è molto importante perché visto che l'approvvigionamento del pesce è molto difficile in questo periodo, per cui ovviamente siamo qui, oggi sentiremo che cosa avrà deciso a livello nazionale perché sono gli stati membri che poi decidono la destinazione dei fondi come dovranno essere strutturati ma l'Europa è il suo l'ha fatto in questo momento e per me questo è importante perché io sono anche stata relatrice ombra di questo dossier e sono fiduciosa di quanto abbiamo potuto inserire perché parliamo anche molto di giovani, parliamo di aiuti ai giovani per l'acquisto delle imbarcazioni e abbiamo cercato di aiutare un po' tutto, coprire le lacune che erano presenti dal precedente dossier, questo è quello che riguarda il FEAMPA. Dopo io sono molto contenta di essere qui oggi perché sinceramente a Carle e dopo tanti anni si fanno gli stati generali della pesca e si merita perché Carle è una delle principali marinerie assieme a Chioggia, a Portotolle e a Venezia e merita quindi avere un particolare risalto. Il settore della pesca è veramente in crisi, dobbiamo supportarlo in tutti i modi quindi chiedo anche a voi in qualche modo di pubblicizzare perché dobbiamo saper vendere il nostro prodotto a livello locale, dobbiamo fare della savernità alimentare, è fondamentale perché l'Europa ha la tendenza in qualche modo di voler raggiungere accordi con paesi terzi per l'importazione del pesce, invece noi preferiamo mangiare il nostro pesce perché è sintomo di qualità e di salute, garanzia di salute per i nostri consumatori, per i nostri cittadini.